E ci spostiamo a Disernia a nuovi locali prossimamente a disposizione della Croce Rossa, l'intesa raggiunta tra l'Associazione e l'Aministrazione a Palazzo San Francesco. Va rafforzandosi a Disernia la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Piero Castrataro e le associazioni di volontari del posto, come nel caso della Croce Rossa, una vera e propria istituzione nel capoluogo di provincia che può contare su circa 200 iscritti ed hanno impegnato in numerose attività e manifestazioni sociali per la comunità e per la soluzione di emergenze. Ma adesso si pone il problema della demolizione e ricostruzione della vecchia sede scolastica dell'Andrea Disernia in via Pascoli, attuale sede temporanea anche della Croce Rossa, lavori che dovrebbero iniziare in questo mese di gennaio. L'ultima intesa tra le parti ha portato alla decisione, sembra definitiva, di spostare i locali dell'Associazione del Presidente Fabio Rea nelle vicinanze della Questura in via Palatucci, struttura di proprietà comunale, alla periferia nord della città. Ambienti consoni alle iniziative e alle aspettative della Croce Rossa e dai mezzi a disposizione. L'urgenza di un nuovo immobile, hanno evidenziato nei giorni scorsi i volontari di Isernia, è finalizzata a non interrompere il lavoro quotidiano e l'assistenza alle fasce più deboli e indigenti della popolazione.